Musica Un cordiale saluto, buongiorno e ben ritrovati a tutti voi. Siete sintonizzati sul canale 17 di Fano TV per la rassegna stampa del mattino che comincia come sempre in diretta alle 7.30 e poi in replica durante la mattinata e come sempre visibile sia su Facebook e su Youtube on demand in qualsiasi momento anche sul nostro sito ovviamente occhialanotizia.it Cominciamo dal santo del giorno, lo vediamo subito, il santo di oggi oggi è venerdì 13 luglio e la chiesa cattolica ricorda Santa Clelia Barbieri era nata nel 1847 alle Budri e Bologna il sole è sorto alle 5.37 e tramonterà alle 20.51 minuti Vediamo il tempo, oggi avremo cielo sereno poco nuvoloso con temperature stazionarie oppure in lieve aumento per la giornata di domani, sabato ancora cielo sereno poco nuvoloso anche se poi su rilievi appenninici dal pomeriggio ci saranno le prime nuvole con piogge e brevi e isolati piovaschi ma solo limitatamente alla montagna i sibillini tanto per capirci e poi domenica, domenica il tempo peggiora su in montagna mentre rimarrà comunque sereno poco nuvoloso nel pomeriggio dove invece nelle zone alto collinari e montane occasionalmente ci saranno no, occasionalmente, occasionalmente sulla fascia collinare mentre in montagna pioverà e questo la previsione della protezione civile delle Marche lo dà per certo quindi insomma questa è un po' la situazione del tempo fino a domenica il transito di un nucleo di aria fredda determinerà un peggioramento per l'inizio della prossima settimana con piogge diffuse su tutto il territorio allora volevo farvi vedere un attimo questa fotografia si tratta di una BMW, eccola qua che è stata aperta con un piede di porco c'è il segnalatore che a un certo punto ci scrive se torniamo un attimo in studio perché volevo evitare un attimo di ecco qua allora torniamo adesso là così evitiamo di far vedere il cellulare allora buonasera questa mattina perché il messaggio è arrivato ieri sera però il tentativo di rubare la macchina a Fano è avvenuto ieri mattina ieri mattina quindi diciamo alle 4 mi hanno scassinato la macchina con un piede di porco danneggiando pesantemente la portiera all'auto autista sono stato avvisato dai carabinieri i quali si erano recati subito sul posto dopo una segnalazione ricevuta non sappiamo se l'intento era quello di rubare la macchina comunque hanno preso quanto c'era all'interno gli occhiali, la giacca, eccetera eccetera questo tentativo di scasso è avvenuto in zona Sassonia via Schiavoni dietro al ristorante Ienchi la macchina è una BMW nera ci sono due fotografie ecco come l'hanno questa è già aperta la macchina è aperta guardate quanti danni hanno fatto allora questa è la diciamo la segnalazione della notte e adesso andiamo a vedere i giornali perché in primo piano c'è l'arresto di due persone che avevano avviato un'attività a luci rosse all'interno dei centri massaggi è una storia vecchia come il mondo così come la professione più antica del mondo ce ne sono a migliaia in tutta Italia di questi centri estetici camuffati in realtà poi c'è il finale felice così come viene definito per dire che il finale di questo massaggio è sempre per il cliente che lo vuole a sfondo sessuale comunque questo è il titolo del Corriere Adriatico di Pesaro centri massaggi a luci rosse scattano arresti e sequestri al lavoro una ragazza una dozzina di ragazze quasi tutte italiane la clientela è per lo più professionista composta da professionisti cioè gente che comunque guadagna perché se pensiamo che un happy ending potrebbe costare poteva costare anche 250 euro insomma un disoccupato difficilmente riesce a ottenere queste prestazioni allora fanno dei ceseri che show questa invece la pagina la fotografia a centropagina oggi la manifestazione entra nel clou con Ludifortune Pugilatus e Ratto delle Sabine si mangia poi la grande caccia al tesoro la notte elegge anche la nuova miss allora velocemente le due pagine dedicate a questi centri a luci rosse il titolo della prima pagina interna nel centro del body Harmony massaggi in topless a luci rosse arrestati i due gestori tre i locali chiusi dalla polizia uno a Villa San Martino l'altro a Borgo Santa Maria e l'ultimo a Rimini tariffe fino a 250 euro per l'happy ending al lavoro una dozzina di ragazzi come dicevamo tutte quasi tutte italiane la clientela formata per la maggior parte da professionisti chat e linguaggi in codice per accordarsi il dirigente della mobile Bozzi dice un'indagine complessa questa l'accusa è stata costruita mattoncino per mattoncino l'altra pagina del Corriere Adriatico ecco un momento della conferenza stampa qui c'è il riquadro con le persone le due persone arrestate e alcuni messaggi stampati e messi lì per far vedere insomma come avvenivano anche il reclutamento di queste ragazze le operatrici olistiche reclutate via social giovani belle e pulite uno dei titolari in carcere scrive per qualche giorno sarò assente solo manipolazioni tantriche per il relax parla il difensore dei due delle persone arrestate le presunte prestazioni sessuali non sono non sono tali la pagina di Fano invece si occupa della Fano Fortuna ovvero la Fano dei Cesari che è entrata e sta entrando nel vivo sabbia paglia sudore muscoli la città sinebria dell'antica Roma oggi Ludo e Fortuna e Pugilato Sarattolo e Sabine poi Termopolium insomma alla fine c'è anche l'elezione della Miss e questa è la pagina tutta dedicata alla Fano dei Cesari poi vi ricordo invece che alle 10 di questa mattina in in Duomo ci sarà l'addio a Gianfranco Casanova morto mercoledì a 92 anni ed era lo storico gestore del Politeama il Cinema Teatro Politeama di Fano e ancora la bomba e andiamo a Vallefoglia perché ci sono le istruzioni per l'uso sul Corriere Adriatico via anche le auto i vasi e gli animali domenica dalle 7 alle 13 6.000 residenti nella zona rossa verranno evacuati le strutture per l'accoglienza ci sono e dunque se avete se siete all'interno di questo di questo raggio potete leggervi l'articolo che questa mattina Luca Senesi scrive sul Corriere Adriatico il Monbaroccio calcio dalla festa alla tragedia trovato morto in casa il patron il sindaco Vitti dice sarà lutto cittadino sotto shock la comunità di Monbaroccio per la morte di Luciano Lorenzi storico patron del Monbaroccio calcio la società è passata dalla festa per la promozione al dolore più cupo per la tragedia che si è abbattuta all'improvviso nella giornata di ieri quando è stato scoperto il corpo privo di vita dell'amatissimo presidente vero fulcro e sostegno dell'associazione sportiva il dramma si è consumato ieri mattina quando i familiari lo hanno trovato senza vita alle 6 e mezzo del mattino aveva 66 anni brutte notizie anche per la donna badante ricorderete la badante che è stata investita sulla rotatoria 50enne è stata travolta mercoledì mattina nell'interquartieri che collega via Bonini a Santa Veneranda a Pesaro purtroppo per questa donna di 50 anni le speranze sono ormai ridotte al lumicino anzi il giornale scrive nessuna speranza per la donna è tenuta in vita soltanto dalle macchine è collegata alle macchine ma ripeto non ci sono purtroppo speranze per lei la politica sul Corriere di questa mattina Alessia Morani medita di archiviare il partito democratico lei suggerisce cambiamo il nome in movimento democratico europeo poi parla di Marco Lanzi il segretario del SILP che ieri in un'intervista al resto del carlino ha dichiarato di essere disponibile a una sua candidatura Marco Lanzi candidato risponde Bartolucci usa la polizia per fare campagna elettorale sempre da Pesaro il Corriere Adriatico abusivi in spiaggia sul lungomare scatta un blitz sequestrati 100.000 articoli operazione congiunta di polizia locale e capiteneria venditore in fuga quanto recuperato sarà distrutto e ancora in Baia 100 nuovi parcheggi ma si inizierà dall'anno prossimo per ora le soluzioni restano navette e biciclette il sindaco Ricci parla di tolleranza zero per chi lascia i mezzi le biciclette in maniera selvaggia e poi ancora il PD e siamo qui alla pagina regionale il PD Mancinelli l'unica del PD che è stata riconfermata e quindi che ha tenuto un po' su la vittoria della bandiera del PD è stata proprio la Mancinelli qui la vedete mentre abbraccia Martina ebbene prenota il dopo comi archiviata la vittoria in comune il sindaco di Ancona opziona la segreteria regionale Ancona vuole esserci dice alla palombella festa con il segretario nazionale Martina mentre Ricci sindaco di Pesaro ma che è anche un incarico nazionale nel PD dice vincere nella bufera vale doppio calcio un pallone siamo a Fano un calcio a un pallone il sindaco insieme ai 550 ragazzi di Giampa una mattinata al campo da rugby per il sindaco di Fano Seri e l'assessore Barnesi e parlano di grande esperienza e ancora dalla valle del Cesano si sente male per il soccorso l'ambulanza arriva da Pesaro Potes di Marotta dice noi non siamo in grado di coprire i turni con il medico a bordo e dunque portare dalla vallata un paziente a Fano o a San Salvatore di Pesaro non ci permette di tornare in tempo utile sulla voragine invece Bacchiocchi calugna la provincia duro il presidente Tagliolini la procura non ci attribuisce nessun tipo di responsabilità ieri l'ex sindaco era intervenuto sul quotidiano a proposito della della voragine dunque dalla l'altra pagina della Valle del Cesano però da Fratterosa il Borgo Caffè è alcol free fuori anche le slot machine a Fratterosa infatti c'è il primo bar a stemio delle Marche prodotti naturali e a chilometro zero dunque vino birra cocktail sì ma tutto rigorosamente senza alcol anche il Mojito a Fratterosa ha aperto da qualche giorno il primo bar no alcol delle Marche è uno dei pochi bar bianchi così si chiamano alcol free in Italia andiamo adesso sulle pagine di Senigallia in apertura il blitz in spiaggia che è scattato all'alba una retata tra i carrelli degli abusivi una multa di 5.000 euro espulso un clandestino in beneficenza invece i capi di abbigliamento sequestrati la cronaca in piccolo ieri pomeriggio a Ponterio di Monterado soccorso un operaio rimasto schiacciato da un blocco di cemento bustine di Ashish invece nascoste nel push up presa la studentessa fresca di maturità la 19enne spaccia a domicilio e rompono i carabinieri mentre cede il fumo ad un giovane albanese e ancora la terza pagina di Senigallia di questa mattina una folla balla nella discoteca abusiva cartellino giallo al gestore del ristorante un verbale inviato agli uffici del comune dalla task force di polizia ispettori del lavoro e vigili del fuoco e adesso invece apriamo il resto del carlino la pagina principale è per i massaggi a luci rosse scoperti dalla polizia centri hard a Pesaro e anche a Rimini due arresti per favoreggiamento della prostituzione almeno 12 donne coinvolte in gran parte pesaresi e c'è anche una bella lista di clienti insospettabili le pagine interne i 90 anni di Pagnini l'erede di Pasqualon festa domani pomeriggio per Carlo il poeta l'uomo che ti guarda in dialetto da Urbino invece l'università che scala nuove classifiche molti ex studenti si iscriverebbero di nuovo alla Carlo Boll l'università di Urbino si posiziona infatti tra le 151 e le 200 università migliori in Europa secondo il gradimento degli universitari anche perché a Urbino diciamo insomma ci si affeziona non c'è che dire sia alla città sia agli studi che si compiono qui e poi la pagina di Tavuglia dove ci sarà questa manifestazione 4 giorni di spettacolo sportivo ai massimi livelli parliamo di tiro a volo a Tavuglia 700 tiratori migliori al mondo come Londra l'impianto infatti di San Martino a Rio Salso ospiterà i campionati ridati la cerimonia d'inizio avverrà il 22 agosto attesi acrobati del team Cirque de Soleil e poi attesi oltre 2000 ospiti noi avremo invece un nostro candidato ecco la risposta del centrodestra all'anticipazione del Carlino di ieri l'antirici così l'hanno definito giornalisticamente il segretario del SIULP Marco Lanzi alla manifestazione di mercoledì contro la questura da trasferire all'ex intendenza di finanza il centrodestra osserva a distanza questa candidatura civica del segretario mentre Luca Bartolucci eccolo qua sotto l'assessore Luca Bartolucci dice finalmente Marco Lanzi ha gettato la maschera per farsi notare strumentalizza la sicurezza da Fano invece faremo causa al comune per truffa sono i proprietari degli orti Garibaldi che in questa fotografia posano sul loro terreno il comune ci vieta di costruire su terreni edificabili in questi anni oltre a Limo abbiamo pagato multe per la mancata manutenzione del verde perché ad un certo punto qualcuno di noi ha cominciato a disinteressarsi del terreno dal momento che non si poteva fare nulla e ora paghiamo anche per la manutenzione e poi l'ultima pagina quella di Fano sempre del resto del Carlino è per le politiche scusate per le amministrative del prossimo anno il centrodestra il centrodestra sta ancora discutendo a Fano una settimana per scegliere il suo candidato la Lega vorrebbe presentarsi con un nome da lanciare alla cena della Ruspa la cena della Ruspa è una cena se vogliamo anche un po' goliardica che si terrà venerdì a 20 luglio a Villa Piccinetti così come annunciato dal segretario della Lega di Fano Massimo May ma tornando ai candidati resta valida luciatarsi spunta Marianna Magrini mentre potrebbe essere fuori dai giochi la cucuzza bene il nome di Marianna Magrini consigliera di progetto Fano è un nome che ormai ecco appunto è sul è sul giornale nessuno però dice Marianna Magrini nessuno me lo ha chiesto fa sapere la diretta interessata mi fa piacere ma sto valutando anche progetti e strade diverse mentre l'auspicio dell'ex sindaco Stefano Guzzi è che il centrodestra vada oltre gli scenari già visti e con questi scenari politici per le amministrative del prossimo anno a Fano ci fermiamo qui la rassegna stampa torna domani mattina alle 7.30 questa sera c'è il telegiornale come sempre alle 20.30 e questo è il numero di telefono per le vostre segnalazioni grazie per essere stati con noi a voi tutti l'augurio di una buona giornata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti